Un obiettivo comune. Io sono qui per te e per tua figlia. Per fuggire dal proprio passato. Ho dovuto farlo. Ma tu non sei sola. E ricominciare. Freddo! La prossima volta non ti andrà così bene. Sei pronto per l'asta? Ci sono tutti. Questa non è la vostra guerra. Sto semplicemente facendo il mio dovere. La mamma è qua. Raoul Bova, Megan Montaner. In prima assoluta, fuoco amico. Eroe per amore. Mercoledì 21.10, canale 5.